Le bollette dei progetti casa inviata agli eredi delle persone defunte sono un atto dovuto non persecutorio. L'assessore al patrimonio Vito Colonna chiarisce quella che sta diventando una polemica e dice che non si tratta di una volontà persecutoria, ma chi ha accettato l'eredità dei parenti defunti insomma prende tutto. Per ora le bollette sono poche, soltanto 14 per 6.000 euro. Da quando si è insediato l'assessore ha iniziato un'opera di recupero importante perché il buco è davvero da capogiro a quanto pare, che ha portato il Comune ad essere attenzionato dalla Corte dei Conti. In realtà è una cosa normalissima, sembra che noi stiamo facendo degli atti persecutori nei confronti dei defunti, ma in realtà non è così. Chi accetta l'eredità accetta l'attivo e il passivo. In questo caso è un atto dovuto da parte dell'amministrazione comunale recuperare quei soldi che riguardano il periodo della compartecipazione, il periodo 2015-2016. Si tratta di cifre importanti che vanno incassate per non incappare in problemi e si è scoperto negli anni che sono migliaia gli aquilani che non hanno pagato. Il Comune in questi mesi ha inviato tanti avvisi di pagamento e per chi non ha proceduto ai pagamenti si è dato mandato all'Agenzia delle Entrate di andare avanti. L'Agenzia potrebbe procedere anche al pignoramento dei beni. Si procede comunque velocemente verso il recupero e l'assessore conta di finire presto questa operazione. Voglio ringraziare il sindaco e l'Aggiunta che hanno consentito a darmi delle sei unità in più dal primo agosto di quest'anno. Era un anno che chiedevo un rinforzo del personale che si dedica al progetto case. Abbiamo iniziato bene, stiamo continuando. Io penso che entro l'estate del 2025 riusciremo ad accertare tutti i debiti maturati dagli utenti nei confronti dell'amministrazione fino al 31 dicembre 2023.